Welfare Index PMI da cinque anni segue l'evoluzione di welfare aziendale che quest'anno anche a seguito dello stress test costituito del covid ha attuato un vero e proprio salto di qualità. Ciò che vorrei veramente sottolineare che al di là degli aspetti quantitativi il salto di qualità che si è visto quest'anno ma che viene da questa esperienza di cinque anni è stato soprattutto di carattere culturale cioè gli imprenditori intervistati e i manager di imprese intervistati ci hanno raccontato come hanno acquisito una consapevolezza molto maggiore che nel passato dell'importanza degli obiettivi sociali non soltanto economici dell'impresa.